La parte che noi ci troviamo adesso è stata costruita nel 1906, si vede ancora qui con i soffitti sospesi, con le colonne in mano, le finestre proprio decorate, la seconda parte è una città, dopo si vede anche con i più sedici. I tiri sono ancora in tivo originale dell'energia.